PC gaming da 50 euro? Bene, andiamo! Allora, 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 componenti! Case Ultra Gaming, scheda madre Pro, Intel Core Duo, Ben 256 MB di RAM, Hard Disk da 30 GB, e dissipatore! Scene di montaggio non ben definite, e accensione! Wow, figata! Vediamo quanto è veloce da aprire i giochi! Spettacolo, ha già caricato! Oh, bro! Ma ci gira bene Fortnite!